Mi amiamo la vagina, buonga, ando, ando, ando. Restare qui è una sfida ogni giorno ed è anche una sfida bella, secondo me, anche piacevole. Appunto è molto diverso rispetto alla vita di Milano, ecco, ci sono ritmi totalmente diversi, però si imparano anche a scoprire, secondo me, dei lati diversi della quotidianità. Tutta la popolazione dei 30 comuni dei Monti Dauni è inferiore alla capienza dello stadio Meazza di Milano. In un'area di 227 mila ettari, pari all'11,7% della superficie di tutta la Puglia, vivono meno di 80 mila abitanti, da cui l'iniziativa di un flash mob tenutosi nel piccolissimo centro di Carlantino per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inesorabile declino demografico dell'area montana più bassa della Puglia. L'iniziativa itinerante, organizzata dall'Associazione Culturale dei Briganti dei Monti di San Marco la Catola, è stata accompagnata dalla musica e dalla degustazione di prodotti tipici. L'intento dell'iniziativa è quello di dare un messaggio positivo. Abbiamo uno spazio per le storie di ripopolamento, in cui delle persone che hanno già ripopolato, che sono già trasferiti qui, hanno scelto di vivere qui, raccontano la loro storia. Per dare un po' ai giovani un esempio, per non andare a parlare col governo, perché ce ne sarebbero di proposte, ognuno di noi potrebbe parlare della propria idea su come legalmente, attraverso delle leggi, fare delle cose per i nostri territori. Noi abbiamo voluto fare una cosa diversa. Abbiamo voluto parlare dello stesso argomento in maniera diversa, in maniera godiardica, con una canzoncina, con un flash mob. Ma soprattutto con queste storie che vadano nelle teste delle persone che sono sul posto, dei giovani, e gli diano magari un esempio su come fare loro stessi a ripopolare o a rimanere qui. Venga nati da un giovane, ma quando è seria fare l'amore.